Ben ritrovati con una nuova edizione dell'ETG locale di Canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie che arrivano dal territorio e partiamo dalla cronaca perché la morte di Attilio Manca è legata a probabili contatti avuti con Bernardo Provenzano. Un'ipotesi reale per la commissione parlamentare antimafia che ha reso pubblica la relazione sui nuovi elementi emersi circa la morte dell'urologo 34enne che era in servizio all'ospedale di Belcolle di Viterbo nel 2004. L'uomo era originario di Barcellona a Pozzo di Cotto e questo viene definito sempre dalla stessa commissione come uno dei casi che si sono verificati nel nostro paese e che non sono stati chiariti dall'autorità giudiziaria. Un caso ritenuto un'overdose di eroina ma la famiglia Manca da sempre sostiene la tesi secondo cui sarebbe stato ucciso per recoprire un intervento subito da Provenzano a Marsiglia in Francia. Per la commissione però non è stato possibile determinare il momento esatto in cui le vite del medico e dell'aditante si siano incrociate. Andiamo a Latina dove è rimasta in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere la donna arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale dello stesso capoluogo a Pontino con le accuse di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione. Nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Eric D'Arienzo e attraverso alcune intercettazioni era emerso che un pregiudicato del capoluogo a Pontino, indagato per l'omicidio e per traffico di sostanze stupefacenti, era entrato in possesso di un video al contenuto sessuale che ritraeva una donna intenta ad avere un rapporto sessuale con un cliente. Lo stesso indagato aveva poi contattato la donna in questione minacciandola più volte di divulgare le immagini se non avesse avuto un rapporto sessuale anche con lui. La vittima dell'estorsione era stata a quel punto identificata e ascoltata dai carabinieri e aveva raccontato di lavorare per la 57enne. Gli accertamenti avevano così rivelato che dal 2019 fino al 2022 la 57enne si era occupata di gestire l'attività di prostituzione di alcune donne procurando i clienti con cui era in contatto. Andiamo a Roma dove un turista cinese è stato aggradito da uno dei venditori abusivi davanti al Colosseo. Dopo avergli dato una piccola somma di denaro il turista di 26 anni cinese, una somma che il venditore non ha ritenuto sufficiente, dunque ha picchiato il turista e poi lo ha anche rapinato. Come detto il fatto è accaduto al Colosseo e la vittima ha chiesto poi aiuto ad una pattuglia della polizia di Roma Capitale dopo essere stato avvicinato dallo stesso venditore nella piazza antistante l'Anfiteatro Flavio, rapinato di una banconata da 50 euro. Al cittadino cinese era stata chiesta un'offerta per l'acquisto di un braccialetto, offerta rifiutata dal venditore abusivo in quanto ritenuta, come detto, inadeguata dal punto di vista economico. È stato in quel momento che il venditore lo ha colpito con un pugno e gli ha strappato la banconata dalle mani allontanandosi velocemente. Gli agenti sono riusciti a riacciuffarlo dopo che aveva tentato di fuggire e lo hanno arrestato per rapina. Sempre a Roma, perché oggi dai Castelli Romani fino a sud Monti Prenestini fino al sud della capitale, Roma è circondata dalla neve. Appunto, come detto, in queste varie località il risveglio di questo sabato mattina è stato per molti comuni tinto di bianco. Roccapriora, Rocca di Papa, Campi di Annibale, i Pratoni del Vivaro, ma anche Carpinieto Romano, Monte Compatri e Monte Livata hanno visto varie fioccate di neve e le stesse fioccate proseguono ormai da diversi giorni. Sono immagini suggestive, ma anche inevitabili disagi alla neve, appunto quelli legati a questo fatto del meteo, come a Gorga, piccolo comune a sud della capitale, dove alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati lungo i tornanti della strada provinciale a causa del ghiaccio. Strade chiuse, naturalmente, seppur temporaneamente. È un weekend dai grandi incontri politici e per questo torniamo a Latina, perché sempre nel capoluogo pontino, sia oggi, sabato 21 gennaio, che domani ci saranno due incontri con personalità illustri. Entrambi si daranno all'Hotel Europa di Latina e oggi, alle ore 21, ci sarà Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, che incontrerà gli iscritti delle PD della provincia a Pontina in vista del congresso di febbraio. Mentre domani, domenica 22 gennaio, sempre all'Hotel Europa, ma alle ore 17, saranno presentate le liste di Fratelli d'Italia per la stessa provincia di Latina e sarà presente anche il candidato al governo della Regione Lazio per la coalizione di centrodestra, Francesco Rocca. Chiudiamo con la politica, perché ieri nel consiglio provinciale della provincia di Frosinone, che si è riunito ieri mattina, aveva all'ordine del giorno un solo punto che riguardava la surroga di tre consiglieri provinciali, che sono Alessandro Rea, Luca Zaccari e Daniele Maura. Il presidente della provincia, Luca Di Stefano, ha salutato l'ingresso nel consiglio provinciale per surroga di Valentina Gambone, che è sindaco di Colle San Magno e ha sostituito lo stesso Rea, ed è stata anche nominata vicepresidente della provincia di Frosinone. Stefania Furtivo, consigliere comunale di Pofi, in sostituzione di Daniele Mura, e Giuseppe Alessandro Pizzudi, consigliere comunale di Alatri, in sostituzione di Luca Zaccari. Il presidente Di Stefano e i consiglieri provinciali hanno sottolineato la giovane età unitamente all'esperienza amministrativa già maturata dei tre consiglieri. Era anche l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo alla programmazione di Canale 81 Lazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.